Allora sono in quel di Lugano con il mio amico Salvo, ecco che anche se non ci si vede spessissimo però ci si vede perché ogni tanto vengo qua, lui pure ci viene a trovare a Roma ma la sorpresa più grande, no dopo due anni fa Lugano io sì, però la sorpresa più grande mi sarei dovuto portare la barrucca di Raffaella, però da un male, non ce l'ho da solo la sorpresa quindi non vale, la sorpresa più grande come direbbe lei e dopo 18 anni è qui è il fatto che ho rivisto dopo 18 anni un mio vecchio amico, no vecchio no che pare che c'è un mio grande amico, Pino, eccolo qua, Pino Pino finalmente ce l'hai vissuto, è un artista assolutamente un bellissimo piacere pure per me poi, guarda, noi a casa abbiamo anche questo aspetto la mettiamo su... gli appigliatieri, per esempio ah, si può caricare anche a te se hai qualcosina, vedi mezzo tutti pensi, dai, tutti pensi, un grande aspetto puoi sfumare, ciao